hello collector people ben trovati sul divano di inchiostre tempera oggi con noi sul divano c'è Yennefer io la chiamo la gobetta perché rimane di diventare bella e gobetta perché faccio body shaming all'inizio della serie è un po' masculante poi diventa bellissima con la magia questa statua è di? questa statua è Sysho vabbè abbiamo già fatto vedere facciamo vedere Geralt infatti questa è la coppia infatti non è come fa come è nostro per una volta non parleremo ampiamente ampiamente della statua che andiamo a presentare perché si The Witcher onestamente cioè tutte le volte che abbiamo fatto vedere le statue di Cavill perciò dico quando abbiamo parlato di Cavill abbiamo parlato di Witcher quando abbiamo fatto vedere le statue di The Witcher abbiamo parlato di The Witcher e di Cavill quindi questa volta no perché non ci ricordiamo lei come si chiama l'attrice quindi no l'attrice non mi non so come si chiama quindi oggi parliamo di come abbiamo fatto come abbiamo fatto già la settimana scorsa parliamo di dieta innanzitutto ve la guarda ve la faccio girare così facciamo sempre i dj esatto facciamo un poco di tarbo tabling scratching 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 o tarbo tabling si vabbè da dietro c'è il mantello intero quindi chiaramente ah questa è morigerata è una esatto molto belle pure le mani con la magia si bella si diciamo giusto per dire che come anche era Geralt scala anche questa scala 1 a 5 come come l'altra volta quella di Gumbel e niente la linea è uscito Ereddin anche diciamo la linea è una linea che hanno fatto un sacco di personaggi che hanno portato avanti insomma e basta però bella tiene il mantello tosto si è bello il fatto esatto che sta sollevata da terra tramite il mantello non so se ci hai fatto caso vedi si si ho visto qua e niente insomma e quindi arrivederci ciao a tutti no in realtà ti volevo dire che innanzitutto che allora sto vedendo il mandaloriano la stagione nuova no e ho visto 5 puntate dopo di ho detto ah cavolo è finito già come questa stagione perché l'hanno fatta così breve perché non sapevo che stavano uscendo una puntata la settimana si è tutta Disney Plus fa una puntata la settimana ecco il fatto che io le vedo spesso molto in ritardo tutte in blocco fai ma non si ma non di proposito è che semplicemente per sedimentare l'idea di vedere una cosa ci metto tempo e questo tempo ti stia aiutando a pulare e quindi di solito l'hanno pubblicato tutto anche perché no e sono contentissimo perché mi sta piacendo mi sta piacendo molto allora tu hai prima di tutto fatto la cosa più saggia di non vederti il book of Boba Fett no e quindi però ti sei trovato che e anche Andor l'ho mollato a metà com'è che stanno insieme un'altra volta ma fra Valencia ti volevo chiedere tu che sei esatto tu che sei esperto cioè ma la seconda perché a volte io uno vede tante cose troppe cose ma la seconda stagione finiva che arrivava Luke e si portava a Grove ah ok loro si rimettono insieme il book of Boba Fett ah ecco loro hanno avuto questa idea geniale che tu te le devi vedere per forza ok 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 io non lo sapevo proprio l'astronave la cambiano la eh esatto il Razor Crest eh questa qua nuova scintillante Falcon Crest no Razor Crest eh Falcon Crest eh la telenovela ah ok no 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 infatti anche quello lui diciamo cambia l'astronave quella là un po' più sgangherata che era più bella però di questa qua troppo lussosa eh questa qua è tipo l'astronave di Naboo che viene modificata sì sì bella bella in episodio 1,2,3 brutta mo cioè a me non piace ha poca personalità però come dicevo in realtà non è una serie del Mandaloriano ma è la Mandaloriana è Mandaloriano eh sì Mandaloriano eh sì gli americani non ce l'hanno il sesso eh con l'asterisco sì non ce l'hanno il sesso negli articoli quindi Mandalorian è vero c'hai ragione sì no è giusto perché l'italiano è il Mandaloriano quando quando si viste le cose in italiano no 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 è sempre visto il Mandaloriano sì sì che è bello può essere che? può essere Pazwizla può essere l'Armaiola sì che è ancora un altro il mio personaggio preferito del mondo e della vita no e devo dire che proprio questo cambio di rotta per cui sia Grogu sì che che Mando si vedano si vedono meno molto meno sì Grogu proprio poco allora a me di Grogu è piaciuta la prima cosa è che gli hanno finalmente fatto fare qualcosa che non sia fare il bambino pestifero vabbè sì che cammina da solo ma che ha un ruolo più attivo nell'innescare la storia e non fare il cosa il bambolotto la parte comica come dentro Boris che è pure una cosa che finalmente perché non possiamo fare sempre una serie che sembrano i bianchi chi smilicia dove ci sta il bambino che te lo porti a prezzo oh bambino ma questo che smilicia però loro lo fanno quindi e quindi no questa cosa che appunto in realtà la serie è dedicata a Bo-Katan mi è piaciuto molto era un personaggio che sì si capiva dall'inizio era un personaggio bello insomma è un personaggio meraviglioso anche perché chiaramente essendo l'unica oltre al Mandaloriano che si toglie chiaramente che c'è una cioè che tu chiaramente sai chi è l'attrice che sta perché per esempio nella prima stagione proprio quando quando il Mandaloriano si toglie l'elmetto per la prima volta in realtà uno rimane male anche rimane anche male perché era meglio con l'elmetto povero Pedro no sì tant'è vero che ti hai detto mi è piaciuto talmente tanto mi è piaciuta la sto vaso dove mi è piaciuto anche Pedro Pascal che finalmente resta esatto no perché lì praticamente questa cosa c'è ma infatti è una voce non penso che ci sia sempre sotto lui non penso esatto c'è una voce c'è lo doppia esatto probabilmente lui doppia forse qualche movimento fermo tra la tente sia la prima stagione non so perché l'avevo vista in italiano ma perché è arrivato tardi forse forse visto il famoso proxy può darsi che non l'ho vista con l'opzione hai fatto l'abbonamento olandese è probabile e in Dacce è difficile e quindi invece adesso vedendolo con la lingua originale come al solito mi piace comunque di più io vedo sempre in italiano perché non apprezzo perché vedo o guardo e fra vorrei sì appunto vabbè poi mi ricordavo che erano belle ma me le ero dimanticate le musiche sono spettacolari veramente c'è la sigla finale è bella sia come musica che pure come con i concept che sono stati più buoni così tu ti puoi mettere pausa perché non sono sono più lunghe e tolgono prima i sottotitoli così tu metti la pausa e te lo puoi anche te lo scrisciotti e te lo usi come vuoi molto bello sì nella prima stagione c'erano su Instagram e uno se li poteva con dei metodi da pirata che poi questa è una non mi ricordo se lo fanno perché diciamo questo tipo di sigla finale l'hanno fatta pure con Shialc l'hanno fatta anche con Shialc con le immagini che cambiano no disegnate col fatto che c'era il disegno con le immagini sempre della puntata stessa come se fosse un post credit in realtà in Shilk era un post credit questo è praticamente è come se fosse lo storyboard di dipinto esatto sì il Sile McCurry tra l'altro che è molto più molto molto bella poi va bene come ti ho detto mi piace molto l'astronave di Bogatan che poi penso che alla fine sia un'astronave vabbè questa cosa cosa è proprio da nerd terribile penso che sia un'astronave imperiale modificata sì no non lo so però mi piace e devo dire che rispetto alle ultime cose che aveva fatto mi sembra anche più più in forma Katie sì guarda ha fatto una serie fantascientifica che ho visto pure io ho visto mezza prima stagione perché non si poteva guardare era terribile ho detto ok ti voglio un sacco bene pure io però no però no però no lei è cioè nel senso che come devo dire me la ricordo le ultime cose che ha fatto me la ricordo più nei camion dentro Big Ben Theory che dentro l'ultima cosa era tantissima sì era più dieci anni fa era quando era ancora starbucks e diciamo sì lei non è che ha fatto effettivamente non è nonostante la popolarità di genere perché poi ha fatto sì una parte dentro Riddick no lei ha fatto altri telefilm ce n'era uno che non ricordo come si chiama ma era era sui cowboy una roba di modello urbano un poliziotto cowboy urbano poi mi pare che ha fatto pure un'altra cosa sempre di poliziotto whisky cavalier però potrei sbagliare e poi ha fatto questa serie di fantascienza bruttissima terrificante brutta proprio brutta però lei è sempre stata a bo-katan perché bo-katan nasce come personaggio in una serie televisiva ma in un cartone animato in clone wars questo l'ho letto questo l'ho letto perché anche là nel nuovo mandaloriano raccontano delle cose cioè che lei doveva diventare esatto comandante dei mandaloriani doveva quindi recuperare la black saber però poi la abbandonano e questa cosa che la abbandonano succede in clone wars no praticamente lei era la la sorella della regina di mandalor poi c'è la che era fidanzata con con obi-wan faceva le trust con obi-wan poi la purga non te la fanno mai vedere perché ci sta sempre questo fatto quando hanno abbattuto il pianeta e poi non te lo fanno vedere come finisce la storia di mandalor poi dentro rebels lei esce con una serie animata esce questo fatto che lei in qualche maniera un personaggio di rebels recupera questa no la black sword in mano a come si chiama quello dart maul che pure là era diventato re di mandalo in qualche maniera combattono e la recupera quest'altro personaggio sabine frank che gliela regala però non puoi ottenere la black sword come regalo ma te la devi conquistare e quindi se la perde essere presa gran moff giancarlo si mi hai perso si che finemò purtroppo è l'unico l'unica pecca della serie finemò che però spoiler però te lo stanno facendo d'ora si diciamo te l'hanno detto si che potrebbe esserci finemò non c'è c'è solo la stranave buquerellata nello spazio dove lui doveva essere spoiler perché poi oggi è uscita l'altra comunque ripeto io sto apprezzando tantissimo come è stata scritta pure quegli episodi che sembrano un po' andor ci stanno funzionano si ah si diciamo quelli là quelli burocratici quelli su sul pianeta sulla capitale scusa adesso non mi manca meno mannaggia mannaggia su korskan korskan esatto pure quelli sono belli perché perché anche il fatto comunque di staccare ogni tanto esatto la narrazione andare andare altrove che poi io su star è una buona cosa ho sempre avuto un problema con gli ambienti urbani una delle cose che a me mi ha sempre fatto schifo di 1 2 3 che l'ambientazione cittadina ha sempre fatto schifo si vabbè questo però è una come devo dire io ogni volta ogni volta che vedo una cosa di quei stellari la prima cosa che proprio il mio cervello vuole la polvere no 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 dice che caspita tenete le astronavi viaggiate nello spazio alla velocità della luce poi vivete dentro alle caverne senza un pavimento con la sabbia per terra dai no ma perché però deve entrare la sospensione dell'incredulità perché lucas non sa fare le città ora l'hanno imparato a fare i mandaloriani che hanno le astronavi i back back eccetera no vabbè i back back volano eccetera e poi stanno dentro la caverna senza mobili senza niente con il dragone cioè no però però vabbè questo fa l'abbiamo detto tante volte questo fa parte dell'ambientazione favolistica di quei stellari che è qui il western favola però il problema è che devi sospendere sì ma il problema è che loro non la sapevano fare le città perché prima di andor e mandalorian le città di stan facevano schifo erano bruttissime quando ci stessi si vedava poco poi comunque tutto sommato sì perché anche quando esatto anche nel prequel alla fine tu quasi sempre vedi solo dove la repubblica si incontra cioè no ci sta tutto un inseguimento con gli astronavi che era brutto e quando vedi anche quando diciamo la parte di Padme eccetera quella era la reggia di Caserta quindi vedi solo all'interno e quello funziona ma per esempio quando Obi-Wan va nel diner spaziale fa Hello there quello io mi sono sempre imbarazzato per loro che l'hanno progettato ora facciamo un diner come se fossimo in tenenzi dove lui arriva e facciamo sì l'hanno sempre avuta questa cosa di non saperlo fare o di non saperlo fare o di voler fare questa fantascienza solo spaziale avanzata ma poi non lo sapevano fare per me non lo sapevano fare mo l'hanno imparato ed è credibile hanno tentato di fare qualcosa non so che cosa hanno fatto ma finalmente funziona e si vedeva pure il Mandalorian 1 che funzionava quindi bene così sì l'unica cosa che non mi è piaciuta di questa serie è il pirata che sembra pizza margherita no ma quello secondo me quello è voluto secondo me quello è voluto perché sì pizza ma in pezzi io l'ho visto pizza margherita cioè è talmente evidente è talmente evidente lo sai che te lo volevo dire mo l'hai detto è talmente evidente perché c'ha pure la testa triangolare cioè invece è verde invece che essere rosso e bianco ci devono mettere pure i gellari esatto diciamo invece che essere pizza margherita è un'ortolana cioè però secondo me è voluta è una cosa che uno dovrebbe chiedere uno gli dovrebbe dire ma avrete voluto fare un omaggio a a Bell Brux esatto a Bell Brux a pizza margherita perché innanzitutto sono diciamo pirata e pirata entrambi quello era un cacciato diciamo quella era Giabba de Hat pizza giabba de Hat esatto tanto è vero che la testa triangolare era per quello fondamentalmente ci assomigliava pure la bambina faceva schifo al mondo si 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 rinci le vincenzi pizza margherita stella solitaria stella solitaria stella solitaria stella solitaria di Gurgito di Gurgito Giangiarini stella solitaria di Gurgito è uguale è uguale è uguale io appena l'ho visto è impazzito e quindi è impossibile che non sia stato volontario ah io spero che sia stato e non ti è piaciuto a me invece è piaciuto un sacco mi è piaciuto un sacco questo fatto perché ero tutto preso dalla storia mi piace il momento comico si si perché poi è esatto se fai ovviamente si se fai questa associazione diventa un momento comico no perché poi abbatti tutta questi vivono in questo pianeta anche quelli una palla di polvere lo fanno diventare bello e poi tu abbatti ma pure quello cioè lui arriva sul pianeta la capitale poi quando la devono evacuare sono 25 persone sono 25 persone che scappano dalla capitale del pianeta anche là diciamo sono delle cose che veramente devi sospendere l'incredulità sono cose che ci devono lavorare ancora un altro per dire vabbè non fa niente questo è l'altro problema a base di starburst che sembra che una città è un pianeta è esatto è tutto il pianeta è tutto il pianeta come in questo caso però quando lui comunque quando lui arriva che a terra eccetera è una città sì però quando le va quando le ho contate quando arrivano vicino a quella caverna le ho contate erano 25 vedi si vede che Lucas quella cosa la sapeva fare con il photoshop copia e incolla esatto degli stormtrooper oppure delle astronavi seleziona copia e incolla copia e incolla non l'hanno fatto forse non si può fare il premier dovremmo studiarcelo comunque ci sta piacendo no mi sta piacendo mi sta piacendo perché come anche la come anche la prima stagione è un mix giusto diciamo di tutti i canoni di guerre stellare sì perché appunto Andor io la metà lo sospesa mi ha annoiato mi ha annoiato le prime due puntate erano fatte ma erano brutte poi secondo me c'è un crescendo molto molto forte poi al frutto là erano pure molto maturo non erano non erano 7 8 9 puntate mi pare sono 14 13 sono di più te lo dico io perché ho mollato hai sofferto no sinceramente quella non mi è piaciuta proprio è stata noiosa io soltanto bucco Boba Fett che ha fatto bene a non vederti e una cosa notevole è che le ultime due puntate è il mandalodiano quando quindi si rimettono insieme con Grogu fanno la storia e magari ora che me l'hai detto mi posso andare a vedere solo le ultime due comunque devi vedere Boba Fett che non è terribile ma perché anche là secondo me io non l'ho vista quindi ci sono dei personaggi cioè Boba Fett è lui con l'elmo il fatto che tu poi lo associ a un volto quel personaggio secondo me non sempre non sono d'accordo per me è una questione che loro devono poi io non l'ho vista quindi magari è brutta la storia non esisteva non c'era una storia era una stupidaggine cioè lui che deve diventare il re di Tatooine devi sostituire Jabba the Hutt ma perché no continua a fare il pirata voglio dire che è buono non fare queste cose oppure vuoi fare qualcosa fai che ha un problema con la clonazione e faglio mettere insieme agli altri cloni ci stanno 200.000 cose che potevano fare no vabbè questo sì questo sì però questo secondo me è un difetto in generale proprio per fare una cosa di queste grandi saghe esatto dove di queste grandi saghe perché pure Obi-Wan alla fine la trama era brutta eriosa stupida era stupida però non così se alla fine cioè alla fine adesso faccio vedere cioè alla fine è la stessa cosa di The Last of Us cioè praticamente la stessa cosa di The Last of Us con la differenza che The Last of Us è scritto bene è recitato bene è fatto bene è proprio una stupida esagerata se non è per il fatto che ci sta d'arte cioè che ci stanno i personaggi iconici e tu te lo vedi perché ci sta Obi-Wan perché ci sta Darth Vader e allora te lo vedi ma c'è tutta la storia di lui che deve andare a recuperare la principiscia a me è piaciuto di quello è piaciuto il fatto che lui avesse almeno all'inizio era si era un fallito il fallimento questo mi piace perché finalmente si capisce che quello che ci hanno detto in episodio in Star Wars che i Jedi erano perfette no si però capito la trama vera e propria che è quella solo di recuperare la bambina era la stessa di Mandaloriano 1 però senza la sorpresa forse Leia ero come personaggio bambino meno simpatico era troppo che però non è un male secondo me che le fosse così stronzetta no però esatto non è simpatica non era così però però era meno brutta di Bob che non ho visto però quella appunto fra le 2 e 3 che ho visto di Guerre Stellari no si vabbè Boba Fett non l'ho vista Andor l'ho mollata poi ho visto il Mandaloriano che è quella che mi è piaciuta e sinceramente che Obi-Wan quando l'ho vista e non mi ha fatto impazzire comunque tra tutte le serie dico che fondamentalmente le cose migliori forse sono le serie animate Clone Wars però Clone Wars sono tantissimi quindi non lo so e se non ti vedi Clone Wars non puoi vedere tutto il resto quindi inutile e poi ci sono quelli là con l'animazione giapponese e quelli li puoi vedere si chiamano Visions che non è Star Wars però con i personaggi Star Wars modificano un po' le cose per me vale assolutamente diventasi poi un universo molto vasto ma quello lo puoi vedere anche un episodio a caso c'è n'è una che è praticamente però sai sulle cose animate è una cosa mia quella pure alcune sono bellissime altre no però durando pochi minuti chiaramente ogni corto durando poco tu te la vedi perché comunque in realtà è una serie sperimentale cioè un approccio sperimentale in realtà sono belli sono molto belli i design e alcune storie perché come tutti queste storie antologiche su dieci due sono bellissime quattro sono belline due o tre sono inutili delle tre stagioni di ordo oltanto quella dello yogurt proprio bene ah no io delle tre stagioni le due che sinceramente secondo me erano fantastiche che poi sono dello stesso studio dello stesso autore sono la ragazza e il ragazzo che si vedono lei che vede dalla finestra lui che uccide un'animazione incredibile e che nell'ultima invece l'eldorado è quella tipa che balla nell'acqua con il con il cavaliere spagnolo io però io questa cosa se non c'è la storia io non riesco a eh no ma quelle sono belle visivamente come il design dei robot dei primi tre robot della prima stagione quelli erano belli quei design però io dovevo avere il robot non dovevo vedermi no però quelle sono molto cioè death love robots è molto un fatto visivo proprio prova visions che prenotte giapponese la mia volta è bella la mia volta è la migliore è proprio quella la prova visions che sono antologica sono giapponesi e quindi hanno uno sguardo che forse ti porta a quello che voleva fare lucas con le spade e gli zoccoli perché quella alla fine è una serie di samurai anche fra le altre cose quella è basata su prova a vederti quelle che poi sono sempre antologici sono pochi quindi potrebbe essere divertente fateci sapere qual è la vostra serie di star wars preferita se vi hanno fatto tutte mi sono censurato perché e niente e diteci soprattutto appuntamento al prossimo video in cui non vi faremo vedere una statua in cui faremo vedere tutto parleremo di tutto tanto che della statua quindi parliamo di lavatrici no mi sa che la prossima volta facciamo tiriamo fuori un po' di hot toys no vabbè facciamo spoiler ormai l'ho detto see you on the funny papers ciao a tutti con la forza ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!